Benvenuti ad un nuovo appuntamento con i Banking Digital Talks di Accenture. Proveremo a raccontare il cambiamento nel settore bancario italiano e non solo. Puntata dedicata all'esperienza emozionale, emotional experience. La banca oggi si innova a due dimensioni. Il filiale per noi resterà comunque il punto centrale. E ci vediamo alla prossima puntata.